Quando Lina torna a Montenero di Bisaccia passa sempre in via Gabriele D'Annunzio, la strada che si trova a poca distanza dalla casa dei genitori. Qui la mattina del 10 gennaio di quest'anno suo padre è stato trovato in una pozza di sangue e dopo cinque mesi di grandi sofferenze è morto. La donna è convinta che Domenico Dallò, 83 anni, sia stato investito da qualcuno, non accetta altre ipotesi e vuole arrivare fino in fondo. Per questo si è opposta alla decisione della procura che ha intenzione di archiviare il caso. Noi ci siamo fatti l'idea, io specialmente, che mio padre, in questo punto dove è accaduto, mio padre stava attraversando la strada. È arrivata una macchina, non lo so, un autoveicolo, che mio padre non ha nemmeno visto. E siccome stava attraversando, non ha fatto in tempo ad evitare, mio padre era una persona esile, anche lo specchietto di questa macchina, siccome qua è una tangenziale e si corre anche, non è riuscita ad evitare, anche lo specchietto l'ha sbalzato. L'INA ha chiesto nuove indagini, ha ricostruito tutta la vicenda dai primi soccorsi agli ospedali e non si arrenderà fino a quando la morte del padre non avrà un responsabile. In base alle ferite che ha riportate, mio padre non solo, come le dicevo, tutto il lato sinistro fino al collo, anche sulle mani e scoriazioni, ai gomiti e alle ginocchia. E quindi da questo si deduce, cadendo un anziano di 83 anni, che mio padre era esile, non poteva farsi quel danno tutto al lato sinistro. La figlia di Domenico Dalò si è rivolta a tutta la comunità di Montenero di Bisaccia. Chi ha visto, dica la verità, cioè che mio padre, io mi appello anche alla coscienza soprattutto, veramente io ho aspettato in 70 giorni all'ospedale di Campobasso e poi altri 40 giorni all'ospedale di Larino che qualcuno si facesse avanti, dicendo mi è successo, tuo padre attraversava, invece nessuno è venuto. Mi aspetto questa cosa. Dopodiché c'è il signore che è il primo giudice. Se viene, viene. Se no, mio padre è morto e requiem eterna. Questa è la verità. Questo è un ultimo appello che io faccio per la verità e anche ai giudici, perciò abbiamo fatto opposizione.